Ciao ragazzi! Dopo l'unboxing del Thermomix, è il momento dell'unboxing della Round Serving Bowl. Questa è stata un regalo che mi sono guadagnata facendo l'hosting della Cooking Experience e poi ho comprato il bimbi, quindi ho portato delle amiche a guardare la Cooking Experience e questo è un regalo che è stato fatto a me per aver portato delle amiche a vederlo e per poi aver comprato il bimbi. Questo è il coperchio. Allora, questa bowl è particolare nel suo genere perché intanto per incominciare è bellissima, tutta stainless steel, cioè è bellissima, molto di stile, come tutto quello che fanno, perché cioè è tutto bellissimo, come potete vedere la linea del bimbi, la linea del Thermomix, non devo dire bimbi perché qua il bimbi non lo conosce. Questo è stainless steel e mantiene il calore o mantiene fresco il cibo per un paio d'ore. Quindi è molto versatile perché se voi la potete usare come risottiera, la potete usare per metterci dentro qualsiasi cibo che voi vogliate preparare e vi mantiene caldo o freddo il tutto. Guardate che bella, è veramente molto bella. Tra l'altro è una grandezza giusta, potrebbe essere usata come cortapasta, addirittura stavo pensando che se uno fa le tortiglia fatte in casa, le fajita, diciamo le tortiglia per fare le fajita, uno per mantenerle calde, per servirle a tavola quando ancora devono essere farcite, quasi quasi potrebbe portarle con queste, molto bella. Ciao ragazzi, mi raccomando, cook it again!